non ci ha fatto, non ci ha fatto professora, comunque tu mi hai scusciato, tu stai un po' candato e perché? perché io ti dico che questo è un posto primato questo? questo o perché? ehi, che ti fa? e non è che questo è un posto primato ma va a filare e filare solo, l'ho detto così 3, 4, 2 non è come niente meno, ho arrivato a fare da capuzella mia ma fa dire che la patella vuole assolutissima mena che qua, questo posto tu non devi più cantare sapete che il cano non canta più? e allora io me ne vado non ci ha fatto Ma hai capito che un canto non ne ha cantato? E allora io me ne vado. Ma tu hai capito cosa? C'è capito? C'è capito? C'è capito? C'è capito? C'è capito? Cucinella! Cucinella! Non mi è. Non è. Mi sono compito una se 자연ственно di cantare. Ho cantato adesso la più bella ancora. A P. La più bella mamma. La più bella mamma. E dopo. Sì! Sì! Fiii! 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 Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì.